Hai la passione per il mare e vorresti trasformarlo in un lavoro, magari diverso dagli altri, qualcosa di veramente nuovo. Ecco, ho la soluzione per te. Rimani fino alla fine del video per scoprire questa grande opportunità. Ok, let's go! Ciao, sono il capitano Giuseppe Cracchiolo dell'Agenzia Navigando e a seguito della modifica del regolamento di attuazione è stato introdotto l'articolo 91 quinquies e seguenti che disciplinano l'attività di assistenza e traino di natanti e imbarcazioni in mare. Si tratta di un'attività che ti consente di offrire tanti servizi, come trainare natanti e imbarcazioni che sono in avaria o che hanno bisogno di assistenza, supporto per togliere le scime dell'elica, portare su richiesta carburante, lubrificanti, ricambi e tanto altro ancora. Sono prestazioni a carico del richiedente e spesso le tariffe sono molto salate. Come si avvia? Dunque, occorre presentare una comunicazione di inizio attività presso la Capitaneria Competente per Territorio ed essere in possesso di un natante o un'imbarcazione iscritta nell'archivio telematico centrale delle unità da diporto e stipulare una polizza assicurativa. Chi conduce il mezzo deve essere in possesso della patente nautica senza limiti da almeno tre anni oppure di un titolo professionale. La Capitaneria di Porto iscrive in un apposito registro le imprese che esercitano il servizio di assistenza e traino e annota la sigla e il numero di iscrizione delle unità utilizzate. Se vuoi saperne di più, contattaci per una consulenza gratuita e non dimenticare di seguirci sui nostri canali social TikTok, Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornato.